di Briccino, molto scarno, edito dalla Presidenza della Repubblica o dalla Presidenza del Consiglio, non ricordo, che conteneva i 139 articoli della Costituzione, più le disposizioni transitori e finali, senza nessun commento, come regalo ai ragazzi di tutte le scuole d'Italia, fu donato un testo della Costituzione. E io ricordo come lo lessi quel testo, come lo sottolineai con la matita, e poi quando andai a Milano, all'università, quel testo che io avevo studiato senza nessuna conoscenza giuridica, me lo portai dietro, quasi come staffetta, come passaggio di testimone tra la mia esperienza di liceale e la mia esperienza di studente di giurisprudenza, e poi lo evi...